Buongiorno a tutte e a tutti, compagni e compagni, grazie particolare a Fabrizio per aver, come dire, decurtato il nome della lista. Grazie. Infatti, no, però l'ho apprezzato molto. No, però invece ne voglio parlare. Adesso, al di là delle battute, credo che sia una delle questioni che, come sapete, ha animato anche il dibattito all'interno del congresso del mio partito. E quindi, se siamo d'accordo, se per Fabrizio e Francesco va bene, io proverei a parlare non solo di quello che sta succedendo a livello di Parlamento europeo, ma anche, dal mio punto di vista, di come avviare insieme o proseguire insieme un lavoro politico di ricostruzione di quel blocco sociale che questo neoliberismo ha frammentato e disgregato non solo in Italia, ma in tutta Europa. Parto, quindi, da quello che è, di fatto, l'esito a livello istituzionale, sia a livello di Consiglio che a livello parlamentare, di quello che si è messo in campo durante la celebrazione dei 60 anni. Di fatto, Juncker, come Presidente della Commissione, aveva anticipato, nella sessione plenaria di Strasburgo, che si era svolta alla sua presenza, cinque ipotesi per il futuro dell'Europa. Di fatto, di queste cinque ipotesi, quella che ha preso materialmente corpo, anche con le firme e il Consiglio di questi giorni, è l'ipotesi di un'Europa a due velocità, ovvero di un'Europa che procede per livelli di cooperazione fra gli Stati membri differenziati. Questo, come sappiamo, è, diciamo, di fatto il tentativo da parte delle classi dominanti, dei governi dominanti, di agire sostanzialmente per, nella loro ipotesi, provare a costruire cerchi concentrici nel funzionamento dell'Unione. La direzione, però, è sempre quella. La direzione è quella che le risoluzioni approvate poche settimane fa dal Parlamento europeo, che portano una firma che, diciamo, per noi già dice molto, la firma di Bresso e la firma di Brock, sostanzialmente lavorano per una modifica, o meglio, per indicare, perché, come sapete, il Parlamento ha, diciamo, di fatto una funzione di sollecitazione, il potere di iniziativa legislativa è tuttora nelle mani di Consiglio e Commissione, lavorano nella direzione di, sostanzialmente, inserire, per fare un esempio che però, diciamo, è altamente qualificante del processo che è in atto, trasformare il Fiscal Compact da accordo intergovernativo ad accordo di Valenza Comunitaria. Questo, io credo, ci parli di uno scenario politico all'interno del Parlamento europeo che chiarisce ulteriormente un grande equivoco, in cui, a mio avviso, ed è questo il primo punto politico su cui vorrei dialogare con voi, un grande equivoco sulla rottura della grande coalizione. Come sapete, a inizio gennaio si sono svolte le elezioni per la Presidenza del Parlamento europeo. Io ero candidata per il gruppo GNGL alla Presidenza del Parlamento europeo e candidata sulla base di una condizione che, diciamo, avevamo discusso all'interno del gruppo parlamentare, ovvero che io sarei rimasta candidata per tutti e tre i turni e che in alcun modo avrei appoggiato qualsiasi forma di accordo con il candidato dei socialisti che era Gianni Pittella, che è attualmente, tuttora, il capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento europeo. Peraltro, come sapete, sostenitore del SIA referendum, attualmente schierato nel congresso del Partito democratico con Matteo Renzi. Quello che sta succedendo è che, in quella che in realtà è stato un balletto tra socialisti e popolari per la Presidenza del Parlamento europeo, che avrà, diciamo, e che ha avuto nella retorica e nella propaganda dei socialisti, avrebbe dovuto configurare l'elemento di rottura della grande coalizione, ovvero grande coalizione socialisti, popolari e liberali che hanno votato nell'85% dei casi, credo, allo stesso modo nelle risoluzioni del Parlamento europeo, in realtà, ecco, diciamo, questa rottura della grande coalizione non solo non c'è stata alla prova dei fatti e faccio un esempio non, come dire, marginale rispetto a quello che sarà il futuro dell'Unione europea in primo luogo per quanto riguarda la sua politica commerciale, ovvero la sottoscrizione dell'accordo di commercio tra Unione europea e Canada, in cui i socialisti, per la maggioranza, hanno votato insieme ai popolari a favore della ratifica del CETA da parte del Parlamento europeo. L'elemento che a me preoccupa, e mi preoccupa, sono molto contenta che i compagni francesi siano riusciti a portare avanti una candidatura per le presidenziali francesi, mi preoccupa perché quello che rischia di essere riproposto da parte della sinistra europea, soprattutto in relazione con quello che sta accadendo in Germania, quindi con l'auspicio da parte della Linke di poter ricostruire una coalizione rosso-rosso-verde, è di fatto una maggioranza dei partiti della sinistra europea, in particolare Linke e Siriza, inclini a riproporre un'ipotesi di accordo con i socialisti europei. Io credo che questa sarebbe la fine del partito della sinistra europea. E vengo alla questione greca, perché la questione greca non è una questione che sta alle nostre spalle e non è un caso che io abbia ritenuto centrale anche per il dibattito del mio partito di rifondazione comunista in relazione alle questioni europee sollecitare una presa di posizione sulle questioni greche. Non solo perché io credo che la questione dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, sottoscritto anche dal governo greco, e dall'altro lato la questione dell'accordo commerciale con il Canada, anche questo, sottoscritto anche dal governo greco, siano dentro, diciamo, come posso dire, siano due accordi che strutturalmente stanno dentro lo schema dell'Europa neoliberista, cioè di quello che noi dovremmo contrastare e combattere. Ma perché credo che, appunto, Siriza sia uno dei partiti che in questo momento spinge perché la sinistra europea cerchi una sponda con i partiti socialisti europei, con i governi socialisti europei, ovvero continui a riproporre come soluzione quello che invece, come diceva giustamente Cristina prima, è non parte marginale del problema, parte fondativa del problema, ovvero i socialisti europei sono uno dei partiti del neoliberismo, sono un nostro avversario di classe. Finché non si mette a fuoco questo, io credo che noi potremo fare due milioni di discussioni su come si riunisce la sinistra di alternativa, e come sapete, diciamo, ormai io questa cosa l'ho anche, come dire, sdoganata in termini, diciamo, fantoziani, qualcuno capirà i riferimenti, ma credo che, appunto, diciamo, la questione sia molto seria, nel senso che io credo che se il partito della sinistra europea ritorna dentro questo equivoco, ritorna a praticare questo errore, non ci sarà un grande futuro per il partito della sinistra europea. Seconda questione, secondo punto che vorrei provare a mettere a fuoco tra di noi, provando a ragionare a voce alta, non basta essere alternativi, cioè, non basta essere, come dire, alternativi nella logica degli schieramenti politici alla logica dei partiti socialisti europei e ovviamente degli altri partiti della grande coalizione. Io credo che noi abbiamo un problema più profondo è più complesso dal nostro punto di vista e cioè, lo dicevo all'inizio di questo intervento, il nodo della ricostruzione del blocco sociale. Io sono convinta, come Cristina, che questa Unione Europea non sia riformabile di certo non ci sarà alcun processo di democratizzazione come pure alcuni movimenti transeuropei ipotizzano, a differenza di quanti alcuni movimenti transeuropei ipotizzano, se non c'è la ricostruzione di un demos. Io penso che questo demos non si possa ricostruire o costruire sulla base di programmi, come pure qualcuno fa il New Deal, o meglio, semplicemente sulla base dei programmi, come qualcuno fa il New Deal per l'Europa, non si possa ricostruire semplicemente nell'accordo di forze politiche, ma va costruito nella ridefinizione di un'agenda europea dei conflitti e dei movimenti. Questo per me deve essere, diciamo, la stella polare del nostro lavoro politico ed era poi, come anche qui Cristina ricordava, l'asse di ragionamento che permeava il forum che abbiamo svolto a Madrid sul Plan B. Credo che questo, però, porti tutti noi a porci delle domande. Era un po' quello che provavo a dire in questi giorni di dibattito che si sono tenuti alla Sapienza e che hanno preceduto le manifestazioni di ieri. Noi siamo stati nella condizione 15 anni fa, prima con il movimento alter mondialista e poi con la costruzione del forum sociale europeo, di elaborare analisi e prospettive su questa Europa, su questa Unione Europea che si sono rivelate ampiamente fondate, ampiamente, come dire, confermate dalla realtà, purtroppo. Quello che però è successo nel frattempo è che in questi 15 anni i rapporti di forza si sono modificati ulteriormente a favore delle classi dominanti. Allora, io credo che noi abbiamo un punto enorme davanti a noi e che riguarda la nostra soggettività, la capacità che abbiamo o meno di agire nella direzione di una modifica dei rapporti di forza. Perché finora, in questi 15 anni, nonostante avessimo ragione praticamente su tutto, i rapporti di forza si sono modificati ulteriormente a nostro sfavore. Allora, da questo punto di vista io credo che ci sia da parte nostra da fare una riflessione e anche un lavoro di studio, a mio avviso, su un nodo che è quello della formazione del senso comune. La dico così perché secondo me noi siamo di fronte a un neoliberismo che diventa concezione del mondo sempre più pervasiva e sempre più dominante e di fronte a una nostra incapacità di far diventare senso comune le nostre ragioni. Credo che questo sia un punto politico che noi dobbiamo affrontare collettivamente. E lo dico anche per un'altra ragione e anche qui mi riallaccio a quello che diceva Cristina ovvero il fatto che una parte dei nostri compagni rischia di sostituire la questione della contraddizione principale tra capitale e lavoro con come dire elevando a questione di rimente principale la questione della moneta e la questione della sovranità. Credo che questo sia un punto e un punto che dobbiamo affrontare. Io ieri ho partecipato ad entrambe le manifestazioni che ci sono state esattamente perché non accetto il discorso degli altri cioè che la questione dell'euro debba diventare la questione discriminante per me non lo è c'erano in piazza dei compagni con una posizione diversa dalla mia sulla questione dell'euro e io ero con loro. Però questo non mi porta ovviamente a rimuovere il rischio che noi abbiamo di fronte appunto che si sposti per una parte diciamo dei nostri compagni come dire sostituisca la questione principale con la questione dell'euro. Lo dico perché io ho partecipato come Cristina e peggio di Cristina adesso spiego perché al plan B che si è svolto a Roma no versione hard nel senso che adesso qui lo posso dire tanto anche cioè ci siamo scazzati pubblicamente io e Stefano Fassina dalla questione del anche questa è pubblica quindi la posso dire tranquillamente del fatto che ad esempio io ho rifiutato di invitare al plan B Alberto Bagnai il quale ha scritto libri sulla questione dell'euro con Matteo Salvini per me quello è un punto diciamo su cui non si può transigere cioè se noi pensiamo che in nome del no all'euro si possa dialogare con Matteo Salvini con me hai chiuso e hai finito di parlare io credo che se questo diciamo se come dire facciamo cadere questo tipo di appunto sostituiamo la questione principale con la questione dell'euro io penso che non ci siamo e non ci siamo neanche se noi pensiamo che il plan B debba essere diciamo appunto un think tank come si usa dire adesso tra figure istituzionali e accademici maschi io penso che diciamo preferisco vivere e quindi insomma credo che il plan B a Roma non saprei dirla meglio di come l'hanno scritta Cristina e Checchino sia stata un'occasione mancata sia stata un'occasione mancata non solo per l'impianto politico che quella discussione ha avuto appunto con la centralità della questione della moneta ma perché non c'è un plan B senza popolo e non c'è un plan B senza qualcuno che si ponga il problema di come ricostruire una dimensione europea dei conflitti in grado di agire sulla questione dei rapporti di forza credo che diciamo abbiamo anche un livello più come posso dire radicale del problema perché secondo me non basta dire no al sovranismo occorre anche fare i conti con un altro tipo di problema ovvero se all'altezza degli anni 30 mi riferisco in particolare ad alcune riflessioni che Gramsci faceva a Turi la questione della costruzione del blocco storico aveva sicuramente a che fare con il nodo del popolare nazionale che nei quaderni è popolare nazionale o nazionale popolare e quindi diciamo anche qui diciamo chi ha trasformato Gramsci in un sovranista credo diciamo ecco gli saranno fischiate le orecchie ogni tanto mettiamola così è evidente che in questo diciamo in questa fase del capitalismo nel 2017 a mio avviso non esiste più una dimensione popolare nazionale che non sia intrisa dell'altra grande forma di egemonia di questo neoliberismo che è la fabbrica della paura che è appunto la paura e la necessità di difendere i confini e di difendere le frontiere da questo punto di vista io credo che appunto noi rischiamo davvero di fare una grande confusione che rischia di portare alcuni compagni a pensare che occorra difendere il proprio proletariato il proletariato nazionale dall'invasione dei migranti e questo io credo che sia proprio diciamo la nostra sconfitta culturale e politica chiudo su una questione anzi su due la questione delle frontiere io credo che la questione della frontiere sia centrale centrale perché è costituente non solo di questa Unione Europea accordo Unione Europea Turchia accordo Unione Europea Libia e qui io lo dico credo che il governo italiano abbia delle responsabilità enormi nell'aver voluto replicare l'accordo diciamo la logica di quell'accordo ovvero esternalizzazione delle frontiere soldi in cambio di esternalizzazione delle frontiere vi assicuro che in tutti i cara che ho visitato in questi anni non mancavano mai racconti di donne che attraversando diciamo dal sud la Libia raccontavano di detenzione tortura stupro e che il governo italiano si sia assunto la responsabilità di spacciare l'accordo tra Unione Europea e Libia come condivisione a livello europeo della questione dei migranti e non nominarla per quello che è la condanna a morte di migliaia di donne e di uomini è diciamo per me come posso dire l'ennesima prova che diciamo appunto con i socialisti europei non bisogna avere nulla a che fare aggiungo che la questione delle frontiere diventa anche la questione delle frontiere della logica della sicurezza come discorso dominante il duo Minniti De Caro cioè ministro degli interni presidente del Lanci che trasforma appunto l'ho letto su Repubblica un'intervista raccapricciante di Minniti che a un certo punto diceva sicurezza è libertà con l'accento e questa diciamo diventa appunto diventa un elemento ordinatore ma insomma l'abbiamo visto qui a Roma anche anche ieri diciamo in quello che è successo con la città in stato d'assedio in quello che è successo a Torcervara con 170 persone tenute bloccate per otto ore senza che vi fosse una motivazione razionale e giuridicamente fondata quindi io credo che dire che la nostra Europa non ha frontiere sia un punto per noi fondativo di quello che deve essere un lavoro di ricostruzione di un movimento operaio e di un progetto per l'Europa io penso che noi dobbiamo riappropriarci del progetto europeo dobbiamo riappropriarci del progetto europeo costruendo e ricostruendo un blocco sociale nella lotta di liberazione dalle politiche di austerità penso che c'è una sola forza politica e chiudo su questo che in questo momento penso possa avere appunto la forza politica di una visione diversa ed è il movimento femminista quello che è accaduto prima in Argentina poi in Brasile con la capacità della lotta delle lavoratrici domestiche di nominare l'intersezione tra dispositivo capitalista e dispositivo patriarcale nello sfruttamento del lavoro domestico il fatto che si nomini appunto la capacità di questo capitalismo di mettere al lavoro l'intera esistenza di sfruttare come posso dire sia i tempi di vita che i tempi di lavoro nella produzione di profitto il fatto che da una posizione femminista oggi si possa leggere meglio qual è come posso dire la declinazione della contraddizione capitale del lavoro e qual è l'intersezione fra quella contraddizione e appunto il dispositivo patriarcale il dispositivo razziale il dispositivo eteronormativo ecco io credo che oggi non si possano produrre pensieri politici e pratiche politiche realmente alternative senza collocarci in una posizione femminista e non non penso sia un caso che in un contesto italiano in cui la vera anomalia non è il partitino della sinistra ma è l'assenza di conflitto sociale in cui credo che il sindacato abbia ovviamente non poche responsabilità in particolare il sindacato confederale penso che il fatto che ci si sia riappropriate di una dimensione di massa della piazza a partire dallo sciopero globale delle donne ma ancora prima dalla grande manifestazione che c'è stata anche qui in Italia il 26 novembre il fatto che si abbia avuto non soltanto una capacità critica nella lettura del presente ma anche una capacità affermativa con la scrittura di un piano femminista contro la violenza sulle donne che va dalle questioni del lavoro alle questioni del sessismo nei movimenti il fatto che si sia rideclinato uno strumento come lo sciopero generale costruendo uno sciopero dal lavoro produttivo e dal lavoro riproduttivo uno sciopero dai generi uno sciopero da tutti i dispositivi disciplinanti ecco io credo che se un tempo qualcuno definiva il movimento dei movimenti la seconda potenza mondiale oggi noi abbiamo una forza politica che ha si è imposta sullo scenario mondiale appunto dall'argentina alla polonia e questo mi fa dire ancora di più due cose che per me sono fondamentali quando si parla di Europa uno come donna non ho patria la mia patria è il mondo intero punto primo punto secondo io credo che oggi pensare all'Europa significhi pensare e anche qui torno a Gramsci a come costruire la nostra rivoluzione in occidente e penso che questa rivoluzione in occidente o sarà femminista o non sarà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti